buonasera a tutti e benvenuti al primo web seminar dell'academy sessione invernale di febbraio il primo web seminar di tantissimi web seminar che si terranno il martedì alle 19 e grazie ai quali andrete a studiare la mia strategia su tutti i time frame su tutti i time frame maggiori mi raccomando la cosa importante dell'academy è la lezione del mercoledì che c'è del martedì che durerà fino alle 8 fino alle 20 poi avete tutta la settimana per studiarle in modo da arrivare preparati al giorno alla settimana successiva questa è la cosa fondamentale non rimanete mai dietro perché altrimenti non non sarete in pari col programma allora come vedete ci sono le slide e c'è la registrazione che vi verrà inviata entro stasera quindi sia le slide che la registrazione vi verranno inviate quindi importante che state che state attenti alla spiegazione e poi rispondete attraverso le domande che potete fare quando io vi vi interrogo rispondete attraverso le domande che potete fare per quanto riguarda l'intervento in diretta ogni tanto dirò qualcuno di intervenire in diretta per 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 vedere un po il vostro grado di apprendimento magari lo faremo più in là quindi cominciamo subito la prima lezione che a me interessa tantissimo siccome voi guardate anche in maniera diciamo non non in maniera perfetta ma in maniera superficiale segnali è bene che voi sappiate come io gestisco il mio rischio e reward quindi è la cosa fondamentale di tutto è il rischio e reward che io devo avere per ogni operazione innanzitutto cominciamo subito come si prepara il grafico diciamo che tutti hanno i miei allievi allora andate sulla meta trader andare sulla meta trader e fate file nuovo grafico ok facciamo euro dollaro euro dollaro così e vi diventa un grafico nero un grafico nero voi su questo grafico nero per farlo diventare come i miei dovete schiacciare col tasto destro del mouse andare in proprietà va bene proprietà in queste proprietà dovete scrivere sfondo bianco primo piano black griglia black barra superiore black barra inferiore black candela toro verde candela orso rossa grafico in linea verde verde rosso se io clicco vedete che ho il grafico come la mia poi col tasto destro levate la griglia ecco qua che avete i grafici come i miei quindi tutti quelli della rubrica dei segnali dell'arcademy anni grafici così in modo di essere tutti uguali e queste proprietà basta andare sul grafico sul grafico file nuovo grafico o qualsiasi grafico nero col tasto destro costanto dentro proprietà e fate quello che vi ho detto quindi ripeto bianco tutto nero 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 poi verde ripeto verde rosso e questo resta così ok si scelgono le candele e si allarga il grafico e si leva la griglia sempre col tasto destro griglia quindi questo è i miei grafici così siete abituati a farli come 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 li faccio io nelle slide vi ho messo le proprietà in modo che 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 così quando andate a preparare i grafici in bianco avete le proprietà che ho che hanno tutti quelli della mia rubrica e dell'academy su questo ci sono domande sulle preparazioni dei grafici non penso no possiamo andare avanti andiamo subito rapidamente a fare gli accenni generali del forex perché poi dobbiamo subito inserire la parte operativa del risk management allora il forex come come sapete tutti è il più grande mercato finanziario e permette di scambiare diverse valute attraverso un tasso di cambio è il mercato più liquido al mondo perché ha un'altissima probabilità e ogni giorno ci sono 5 5 mila miliardi di dollari al giorno che avvengono fra 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 istituti privati banche e altri mercati le grandi banche d'affari cioè le mani forti sentirete sentirete dire da me molte volte le mani forte perché la mia strategia cerca di entrare all'inizio di onda 2 ossia alla fine di onda 2 ossia quando entro le mani forti le mani forti sono questi le le grandi banche d'affari negoziano più della metà del volume di tutti gli scalpi mondiali mentre le banche centrali intervengono nel forex per motivi di politica monetaria le medie non ho parlato di medie non ho parlato di media quindi il grafico in bianco il grafico in bianco non abbiamo parlato di medie allora io ogni 15 minuti mi fermo per le domande poi se ci sono domande le scrivete quindi i trader privati ossia noi rappresentano una minima parte di questo mercato mercato e copre il 9 per cento qui addirittura il 9 per cento quindi come vedete noi piccoli trader non contiamo nulla ma chi conta sono le mani forti quindi è importante la mia strategia perché è potente perché io cerco di entrare attraverso le onde nell'onda più lunga all'inizio di onda 3 ok attenzione il forex è un mercato aperto dalle 23 della domenica fino alla stessa ora del venerdì successivo e ci sono delle sessioni alle 23 apre la sessione australiana sin alle 8 all'una apre quella di tokyo sin alle 10 alle 9 apre londra e alle 14 apre new york chiaramente qual è il periodo in cui c'è più volatilità del mercato quando si sovrappongono le sessioni di londra e quello di new york sia dalle 14 alle 18 qui dalle 14 alle 18 il volume delle contrattazioni raggiunte il 50 per cento del totale quindi qui sono dalle 14 alle 18 diciamo che sono i maggiori scambi però a noi interessa fino a un certo punto perché noi andiamo a trattare soprattutto sui time frame inferiori queste sono le sessioni del forex ricordatevi gli orari d'apertura attenzione cominciamo subito a vedere cos'è il tasso di cambio il quando io parlo di euro dollaro questo è un tasso di cambio è il rapporto tra due valute con cui si stabilisce il valore di una valuta al numeratore cioè all'euro rispetto al dollaro ok se io dico che euro dollaro è pari a 1.13 65 vuol dire che per acquistare la moneta al numeratore occorrono 1,13 65 della moneta denominatore questo è il rapporto di cambio euro dollaro è il valore dell'euro rispetto al dollaro se il rapporto euro se rapporto euro sterlina è pari a 0.73 vuol dire che per acquistare la voluta al numeratore ossia l'euro ho bisogno di 0.73 sterline quindi se il rapporto è sotto 1 che vuol dire che qual è la moneta che vale di più secondo voi se il rapporto è sotto è sotto sotto 1 varrà più l'euro la sterlina intanto vi faccio le domande no quindi cercare di rispondere con la chat no ecco marco ha detto l'euro no perché per acquistare un euro ci vogliono 0.73 stelline e quindi la stellina più forte dell'euro ok quindi che cos'è il tasso di cambio o il rapporto di cambio è la divisione fra due valute al numeratore al denominatore e quando io dico che vale 1,13 vuol dire che per acquistare un euro che sta al numeratore ho bisogno di 1,13 65 dollari al denominatore quindi tra euro dollaro chi è la moneta più forte le domande sta nella chiaramente l'euro chiaramente l'euro molto bene quindi ricordatevi tasso di cambio perché poi sarà fondamentale fondamentale per per vedere il valore di un pip va bene fino a qua è importantissimo perché molti queste cose le tralasciano invece sono cose fondamentali e io la faccio alla prima lezione proprio perché voi dovete dovete guardare i segnali la valuta più scambiata è il dollaro inserito nell 85 per cento degli scambi totali l'euro il 38 lo yen al 18 allora innanzitutto per operare nel fore va bene ci vuole un personal computer una connessione veloce e un contratto con broker attenti attenti a questa cosa qua e attenti a questa cosa qua perché per scegliere broker è molto importante alcune cose allora il broker offre la possibilità di avere un conto attraverso il quale operare sul mercato dopo aver inviato la documentazione richiesta è possibile effettuare un deposito tramite bonifico carta di credito il rimborso avviene con la stessa protege dura attenzione secondo voi è meglio pagare col bonifico o con la carta di credito quando io apro un conto con broker allora tutti dicono bonifico e daniele la carta attenzione siccome il broker rimborsa se io voglio i soldi indietro mi da ve lo rimborsa con la stessa modalità con cui ho pagato se io pago con la carta di credito lui mi rimborsa con la carta di credito se scade la carta di credito sono problemi e quindi pagate sempre con bonifico che così vi fanno il bonifico non pagate con la carta di credito perché se scade non è che non vi danno i soldi però è un macello ok se scade la carta di credito si può aggiornare ma se uno non se ne accorge perché molti non se ne accorgono è un problema è meglio io consiglio di pagare col bonifico senza problemi esistono broker italiani o esteri la scelta del broker è molto importante perché importante deve essere la sua affidabilità ossia siccome noi facciamo forex long term non state a guardare se vi danno mezzo pip o un pips di commissione guardate più che altro se il broker è affidabile allora dovete guardare in che banca i depositi vengono depositati i soldi in che stato meglio in italia quali sono le commissioni per l'apertura e tenuta colta deve essere zero le commissioni per l'apertura e 1.0 non ci devono essere commissioni lo spread applicato per ogni operazione deve essere il più basso possibile però a noi e ciò ci deve essere un referente che parla lingua italiana perché molti non ce l'hanno il deposito minimo richiesto ecco questa è una cosa che vi chiedo io durante l'academa durante l'academy voi dovete avere o un conto demo o un conto da 250 euro quindi ci deve essere un broker che accetta un conto minimo poi la poi l'invio del denaro meglio bonifico la piattaforma meglio metatrader la possibilità di scaricare conti demo per esercitarsi senza rischio la garanzia degli stop loss e la cosa importante garanzia del saldo non in negativo ossia il broker chiuderà automaticamente tutte le trade nel caso in cui non avessi più fondi a sufficienza questo è fondamentale cioè vi devono garantire che se state quando arriva a zero chiudono automaticamente l'operazione non va più basso questo è fondamentale perché se no se avete operazione aperta e c'è del conto a zero va a meno mille vi dovete ridare i soldi leva utilizzata la leva poi vedremo e garanzia dei microotti ci sono dei broker che non fanno entrare con 0,01 allora io personalmente garanzia dei stop loss che molti broker non garantiscono gli stop loss ok non li garantiscono sono pochi ma non io ve lo ho messi allora io no non consiglio nessun broker perché ognuno è il suo e se si trova bene io ho fxd che mi trovo bene però per motivi miei di deontologia non faccio mai non faccio mai non consiglio mai mai i broker ok l'importante però che abbiano le caratteristiche che abbiamo che abbiamo riportato ci sono dei broker che che non non ammettono gli stop loss quindi voi è entrata al mercato senza stop loss e quindi dovete stare attenti anche a questo queste qui sono le informazioni in generale attenzione ma cominciamo arrivare alle cose più pratiche la leva finanziaria allora nel forex nel forex posso comprare posso comprare posso comprare allora se io voglio comprare euro dollaro se io voglio comprare euro dollaro che cosa che cosa penso io che l'euro acquisti valore rispetto al dollaro ossia che la moneta al numeratore acquisti valore rispetto a quella denominatore ci siamo se io voglio acquistare sterlina dollaro ammetto che la moneta al numeratore aumenti di valore rispetto a quella denominatore se invece io voglio vendere euro dollaro penso che la moneta al numeratore perdi di valore rispetto a quella denominatore ci siamo ci siamo fino a qua comprare vendere cosa compro o vendo la moneta al numeratore rispetto a quella denominatore ok quante quantità di monete posso comprare allora le operazioni di compravendia vengono effettuate su quantità definiti di monete quantità definiti di monete io posso comprare un lotto di euro dollaro che corrisponde a 100.000 euro se io compro 0,1 lotti ossia un mini lotto equivale a 10.000 se compro un micro lotto equivale a mille domanda se io compro tre lotti tre lotti e mezzo a quante quantità e quante quantità di euro dollaro compro con tre lotti e mezzo 350.000 con quattro micro lotti con quattro micro lotti 4.000 bravissimi quindi io lotti mini lotti che sono 10.000 micro lotti che sono mille ma mille di che della moneta numeratore rispetto a quella denominatore quindi se io dico euro dollaro compro 100.000 euro di dollari euro dollaro rispetto al dollaro ma la domanda nasce spontanea se io ho un conto da 250 euro come faccio a comprare 100.000 euro se io ho un conto da mille euro come faccio a comprare 10.000 euro chiaramente c'è la leva la leva è il perno del forex uno dei motivi per il quale il forex ha avuto grande diffusione sicuramente legato alla possibilità offerta da vari broker di utilizzare la leva finanziaria questa leva permette di acquistare grandi quantità di monete un lotto un micro lotto un mini lotto depositando sul proprio conto somme ridotte se la leva non esistesse io io ho 200 euro al massimo potrei acquistare l'equivalente in dollari secondo il tasso di cambio 200 euro corrisponderanno a 230 dollari giusto giusto se io c'ho 200 dollari quando vado in america di tramuto in dollari quindi non guadagno nulla invece grazie alla leva finanziaria il broker dare la possibilità a chi apre un conto con somme minime di acquistare quantità di monete elevate allora la leva mi permette di controllare somme molto elevate con capirali ridotti ammettiamo di avere sul nostro conto 1000 euro e di utilizzare una leva a una 200 voglio acquistare un mini lotto sia a 10.000 euro quanto capitale mi serve 10.000 diviso 200 la leva 50 euro ho bisogno di 50 euro del mio conto per acquistare 10.000 euro riepiloghiamo io ho un conto da 1000 euro voglio comprare un mini lotto sia a 10.000 la leva è a 200 quindi faccio 10.000 diviso 200 ho 50 euro ho bisogno di 50 euro del mio conto questo qui il 50 euro è il margine è l'importo che viene bloccato come garanzia per poter coprire eventuali perdite e non posso essere utilizzate per aprire altre posizioni se voglio acquistare un lotto con una leva da 1 a 300 devo fare 100.000 diviso 300 uguale 3333 euro margine chiaro? è chiaro come si calcola? la leva è fissata dal broker il broker ti dà la leva 1 a 100 1 a 200 1 a 300 puoi scegliere te ok? chiaramente più la leva è alta e più rischi quindi più la leva è maggiore minore il margine ok? quindi se io ci avessi qua ho la leva 1 a 200 per comprare un lotto devo fare 100.000 diviso 200 500 euro quindi più la leva è bassa maggiore il margine ci siamo a cosa serve la leva? ci sono domande sulla leva? quindi maggiore la leva più rischio c'è perché il margine è minore va bene? fino a qua ci siamo quindi la leva è un conto il margine che cos'è il margine? adesso se vi fanno la domanda cos'è il margine? è la parte del mio capitale che dedico per acquistare una certa quantità di monete grazie alla leva va bene? la differenza tra la somma che ho sul conto e il margine è il margine disponibile se io voglio acquistare un lotto 100.000 euro e utilizzo una leva da 1 a 300 333 è il margine per acquistare un lotto mi rimane 667 questo è il margine disponibile per altre operazioni va bene? quindi abbiamo parlato di leva e di margine e di margine disponibile avete capito la differenza tra leva, margine, margine disponibile? ci siamo? è facile per ora è facile però le dovete sapere queste cose qua questo qui l'abbiamo fatto il tasso di cambio l'abbiamo fatto cos'è il tasso di cambio? è il rapporto tra due monete che sta una al numeratore e una al numeratore il tasso di cambio mi dice quante monete ci vogliono per acquistare una moneta al numeratore rispetto al denominatore il tasso di cambio il prezzo è espresso con quattro decimali vedete? 1,1365 1,1366 quindi come vedete 1,1365 1,1366 la differenza tra le due è il pips il pips è l'unità di misura del tasso di cambio quindi il tasso di cambio sale o scende di 1,2,3,4,5,6,10,100 pips quindi i profitti e le perdite nel forex vengono espressi in pips il pips è la vera star del forex è l'unità decimale è il più piccolo movimento cui un cambio può essere successo questo è il pips attenzione adesso vi faccio la domanda quanto vale un pips? vediamo se lo sapete quanto vale un pips? da cosa dipende il valore di un pips? allora dipende dalla size giustamente Vanessa dice dalla moneta dalla quantità acquistata dal rapporto delle monete attenzione se io acquisto un lotto di euro-dollaro il valore di un pips sarà 10 dollari perché dollari? perché è la moneta che sta al denominatore se io acquisto 0,1 lotti il valore di un lotto di un pips sarà un cosa? una sterlina una sterlina perché il valore di un pips dipende dalla moneta al denominatore se io voglio comprare 0,01 lotti il valore di un lotto sarà 0,1 yen perché lo yen è a denominatore se io voglio comprare 0,04 4 micro lotti di dollaro canadese il valore di un pips sarà 0,4 dollari canadese quindi cosa vi voglio dire? che il valore di un pips non dipende solo dalla quantità ossia non è che se io compro un lotto il valore di un pips è sempre 10 dollari no può essere 10 dollari 10 sterline 10 yen 10 dollari canadesi 10 dollari australiani ci siamo? ci siamo? ok e adesso subito un esercizio subito un esercizio rispondete a queste domande scrivendo sulla chat se acquisto tre lotti di euro-dollaro quanto vale un pips? tre lotti di euro-dollaro quanto vale un pips? 30 dollari giusto 30 dollari se acquisto tre micro lotti di stellina yen quanto vale un pips? vale 0,3 yen 0,3 yen 0,3 yen se acquisto 0,4 lotti quanto vale un pips di dollaro yen? vale 4 yen molto bene molto bene 4 yen 4 yen se acquisto 0,9 lotti di stellina nuova zelanda quanto vale un pips? vale 0,9 di nuova zelanda dollaro nuova zelanda molto bene se acquisto se acquisto 2,6 lotti di stellina dollaro quanto vale un pips? vale 26 dollari benissimo molto bene se acquisto 0,35 lotti di stellina yen quanto vale un pips? vale 3,5 yen 3,5 yen molto bene se acquisto 0,81 lotti di euro australia quanto vale un pips? vale 8,1 australia bravi 0,03 lotti di stellina yen 0,3 yen molto bene possiamo andare avanti questo è un test vedete che io faccio i test faccio i test per vedere se voi avete capito questo è importante perché adesso andremo a fare il risk reward attenzione allora chi vuole investire nel mercato del forex deve conoscere le varie tipologie di ordini che possono essere inserite nelle varie piattaforme in generale possono essere individuati tre tipi di ordini ordini a mercato ordini limiti e ordini stop quindi io posso inserire segnali a mercato segnali limit segnali stop ok vado avanti a spiegare questa qui è la piattaforma ok quando si esegue un ordine a mercato quando esegue un ordine a mercato si acquista o si vende un determinato quantitatino di monete al prezzo che i brokers presenta in quell'istante allora andiamo nella piattaforma prendiamo un conto demo ok allora come possono essere gli ordini gli ordini possono essere o a mercato a mercato che vuol dire a mercato un ordine a mercato che vuol dire un ordine a mercato che io arrivo arrivo e dico voglio vendere voglio vendere sterlina dollaro al prezzo che c'è adesso quindi questo è un ordine a mercato che faccio nuovo ordine e che faccio clicco in questo momento in questo momento clicco vende ecco qua e sono entrato a mercato quindi compro o vendo in questo momento cancelliamo l'ordine se io invece volessi comprare nuovo ordine e compro al prezzo che mi dice il broker compro in questo momento ho comprato sterlina dollaro quindi ho ipotizzato che sterlina crescerà rispetto al dollaro quindi che cos'è un ordine a mercato un ordine a mercato è un ordine che io do nel momento in cui sono davanti allo schermo quindi questo ordine può essere o buy o sell ci siamo fino a qua ci siamo quindi se io nella rubrica dei segnali dico entrare a mercato sell io che faccio entrare a mercato sell mettiamo ecco daily guardate daily stasera entro a mercato sell a mercato io faccio nuovo ordine e entro a mercato poi vediamo quanto devo mettere qua di volume quindi se io dico vendo faccio questo vende poi vediamo quello stop ok se io vi dico invece assurdo perché qui si vende se io dico voglio comprare voi fate a mercato nuovo ordine compro vado nuovo ordine e inserisco compro questo qui è un ordine a mercato nel momento in cui io sto davanti al video ci sono domande sugli ordini a mercato lo so che queste sono cose però le facciamo adesso perché qualcuno di voi sta all'inizio e bisogna farlo perché la rubrica ha dei segnali adesso cominciamo a vedere gli ordini limit limit allora che cos'è un ordine sell limit un ordine sell limit ammettiamo che io il prezzo in questo momento è 1.42.85 ma a me non mi sta bene io voglio vendere se il prezzo sale un po' qua va bene non mi piace questo livello entro a un prezzo più alto a un prezzo più alto dell'attuale quindi se io voglio entrare per esempio a 1.42.85 voglio entrare a 1.44.05 non metto un ordine a mercato ma un ordine sell limit come faccio vado qui vedete esecuzione istantanea no metto ordine pendente sell limit sell limit quando voglio entrare a 1.44.05 metto 1 1.44.05 ok guardate che succede vedete io non entro a mercato ma entrerò solamente se il prezzo risale ci siamo ci siamo questo è un ordine sell limit che cos'è un ordine sell limit è un ordine che io dico voglio vendere ma non al prezzo attuale ma più in alto adesso vediamo l'ordine sell stop che cos'è l'ordine sell stop a me non va bene di vendere a questo livello voglio vendere più basso per esempio a 1.42 allora che faccio nuovo ordine ordine pendente sell stop che devo mettere qua dove voglio vendere a 1.42 e infatti guardate vedete il prezzo non è a mercato ma il prezzo entrerà l'ordine entrerà solamente se il prezzo va sotto a 1.42 secondo voi qual è meglio il sell limit o il sell stop è meglio il sell limit perché io vendo più alto invece il sell stop vendo più basso e quindi lo stop sarà superiore ok se io se io devo mettere lo stop qua sopra lo stop qua sopra se io faccio sell stop è tutto questo quindi sono per esempio 464 whip di stop se io invece compro qua faccio un sell limit sono di meno di stop va bene quindi abbiamo parlato di sell limit e abbiamo parlato di buy limit adesso andiamo agli ordini buy abbiamo detto vengo qui voglio comprare dollaro stellina dollaro se lo voglio comprare in questo momento faccio compra così perfetto adesso cancelliamo gli ordini adesso ci sono gli ordini pendenti in buy cosa significa l'ordine buy limit buy limit che io arrivo e non voglio comprare qua ma voglio comprare più in basso quindi voglio comprare per esempio a 1 41 e 88 quindi faccio nuovo ordine ordine pendente buy limit a 1 42 e 88 posiziona scusate no no scusate no devo usare più in basso ecco più in basso voglio comprare qui 1 41 e 88 era 1 41 e 88 1 41 e 88 ecco qua ecco qua questo qui è un ordine buy limit che vuol dire buy limit quindi che io voglio comprare a un prezzo più basso migliore di quello attuale se io invece voglio comprare qua su sarà un ordine buy stop che vuol dire un ordine buy stop che io non voglio comprare qua voglio comprare magari quassù a rottura a 1 47 1 47 ecco qua guardate che vuol dire buy stop che compro più alto al peggio quindi non mi va bene a mercato magari a rottura quindi utilizzo il buy stop chiaro? quindi abbiamo gli ordini a mercato e gli ordini pendenti gli ordini pendenti sono sell limit sell stop buy limit e buy stop e io vi ho scritto tutti vedete nelle slide c'è tutto quindi l'ordine a mercato vedete l'ordine a mercato l'ordine buy limit con tutti gli esempi l'ordine buy stop l'ordine sell limit e l'ordine sell stop giusto gli ordini limit sono da utilizzare nei ritracciamenti non nei rimbalzi nei ritracciamenti gli ordini stop a rottura quindi qui nelle slide avete tutti gli esempi ok perfetto ci sono domande sugli ordini? ci sono domande sugli ordini? ordini a mercato ordini limite ordini stop bene ecco qua e adesso state e adesso attenzione perché arriviamo al nocciolo del problema parliamo ora di un aspetto del forex che ritengo fondamentale salvaguardare il nostro conto il risk reward attenti quando si opera nel mercato del forex è fondamentale riuscire ad investire cercando di diminuire il rischio al massimo e questo posso dire di essere il numero uno nel risk reward perché sono uno dei più prudenti in assoluto della storia del forex non esistono prudenti come me perché perché io so che il forex è difficile so che il forex è manovrato e quindi entro poco e metto sempre lo stop a rischio basso attenzione in che maniera si può controllare il rischio degli ordini che si fanno la risposta è semplice è di due parole stop loss non c'è niente di più pericoloso che fare trading senza usare uno stop loss se conoscete qualcuno che trada senza stop loss internatelo in manicomio cioè mettetelo in galera perché un movimento improvviso di prezzo contro le nostre previsioni può cancellare definitivamente il nostro conto quindi non credete ci stanno chi ci stanno chi trada senza stop però però ve lo dico subito che non ditemi mai che non mettete lo stop perché mi arrabbio mi arrabbio perché non si può assolutamente nella mia strategia nella mia strategia avvedrete che ci sono degli ordini al 2% di rischio 1% di rischio e 0,5% di rischio del mio capitale per ogni operazione a seconda della pericolosità dei segnali se voi vedete i segnali che mando in maniera sempre abbastanza superficiale perché voi dovete studiare io divido i miei segnali per rischio cioè secondo voi i segnali più rischiosi quelli contro trend con quanto rischio entrerò con 0,5% del mio capitale quelli meno rischiosi con 2% che vuol dire 2% 1% 0,5% del capitale che se io ho 1000 euro di capitale per ogni operazione rischio quanto 20 euro 10 euro 5 euro se voi avete 250 euro di capitale rischiate 5 euro 2 euro e 50 e addirittura 2 euro e 50 e 5 euro ok quindi è chiaro che quando sarete bravi il conto aumenterà ma in questo momento voi dovete avere un conto e rischiare queste percentuali quindi nella rubrica io metto il rischio io nella rubrica abbiamo più del 58% di di guadagni da ottobre rispettando queste medie il 2 1 0,5% perché i segnali rischiosi che io chiamo didattici entro col 0,5% per studiare perché io faccio partecipare ai miei studi quelli della rubrica e quelli dell'academy chiaramente se sono rischiosi rischio il 0,5% del mio capitale quindi i miei segnali sono in trend in trend e contro trend didattici quindi la percentuale è la percentuale del vostro capitale attenti se ho un capitale di 1000 euro rischio 20 euro al 2% 10 euro al 1% 5 euro al 0,5% se ho un capitale di 5000 euro rischio 100 euro 50 euro 25 euro domanda io che lavoro con 60.000 euro 60.000 euro quanto rischio ogni operazione? quanto rischio? 1.200 euro è tutto in proporzione è tutto in proporzione siccome voi fate l'academy o fate un conto demo oppure mettete 250 euro sul vostro conto e cominciate a tradare dal 31 luglio anzi dal primo settembre perché agosto è tutto fermo chiaro? quindi questo è la percentuale del rischio attenti questo è il rischio che posso se ho un capitale da 4000 euro rischio 80 euro al 2% 40 euro al 1% 20 euro al 0,5% io faccio sempre gli esempi se ho un capitale di 50.000 euro rischio 1000 euro al 2% 500 euro al 1% 250 euro al 0,5% ecco qua adesso guardate che bel lavoretto facciamo allora ditemi ditemi allora i vostri nomi ditemi il vostro capitale prendiamo 10 persone a casa allora ditemi quanto avete voi nel vostro conto demo forza allora allora no no ditemi quanto avete allora diciamo Vanessa 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 quanto ha di capitale Vanessa 1000 euro perfetto capitale 1000 euro poi ci abbiamo Salvatore Salvatore che ha 400 euro molto bene proprio il giusto quello che deve avere nell'accadere 400 euro poi ne prendo a caso Gianluca 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 ha 5000 demo 5000 demo poi abbiamo Andrea Andrea che ha 500 euro ecco molto bene 500 euro Mauro che ha 10.000 spero demo Mauro 10.000 10.000 demo poi Alessandro Alessandro ho scritto Alessandro 1500 reale che deve elevare 1500 reale che devono diventare 250 poi Giuliana Giuliana ha 2000 allora faccio questi qua Carlo poi c'è Carlo faccio questi eh sennò poi non finiamo più Carlo Carlo ha 5 c Carlo ha Carlo 5000 5000 conto reale che leverà subito fino a fine academy fino a fine academy ecco qua molto bene facciamo questi torniamo nelle slide trascriviamo su I vostri conti attuali per vedere quanto potete rischiare l'operazione nel momento che ricevete un mio segnale oppure che mettete un segnale chiaramente riterrò al mercato quando si verificheranno determinati segnali operativi ogni segnale avrà un certo numero di stop loss espresso in pips che dipende dalla tecnica di entrata che poi studieremo allora come si fa a convertire i pips di stop dati dal segnale con la somma massima che posso perdere calcolata attraverso una percentuale del mio capitale ossia se io ho un segnale che a 150 pips di stop e posso rischiare 20 euro con quale size posso entrare la domanda che dovete farvi sempre sempre è se posso rischiare 50 euro del mio capitale e i pips di stop sono 150 con quale size o volume entrerò al mercato questa domanda ve la siete mai fatta? ecco e come si fa? non si può scrivere 0 3 non si può scrivere 0 3 assolutamente attenzione quindi torniamo su paint allora ammettiamo che io ho 2% di rischio Vanessa 1% di rischio Salvatore 0.5% Andrea 2 Mauro 2 Alessandro 1 Giuliana 2 e Carlo 1 quanto può rischiare Vanessa di capitale? ditemelo voi Vanessa può rischiare 20 euro poi Salvatore quanto può rischiare? 4 euro Gianluca quanto può rischiare? 25 euro Andrea 10 Mauro 200 troppo il 2% di 10.000 200 poi Alessandro quanto può rischiare Alessandro? 1.500 l'1% 15 Giuliana 40 Carlo 50 ok? benissimo attenzione Andrea mi dice che c'è un segnale che c'ha attenti 120 pips di stop qui 100 qui 120 qui 110 qui 200 qui 80 qui 120 ad esempio qui 100 ok? questa è la situazione allora ma che cosa manca? che cosa manca? il cross che devo trattare perché? perché manca il cross? perché vi ricordate all'inizio il valore di un pips da cosa dipende? dalla moneta che sta dove? al denominatore giù allora mettiamo che Vanessa ha un segnale su euro dollaro salvatore su usd yen gialluca su euro australia andrea vedete li faccio tutti diversi audi usd mauro nuova zelanda usd euro gbp giuliana gbp japa yen e qui usd cad cad va bene? attenzione attenzione come faccio? Andrea allora cominciamo con Vanessa Andrea ha detto che bisogna entrare su euro dollaro con 120 pips di stop io posso rischiare questo capitale con quanto size entro? rispondete come faccio? è molto semplice guardate guardate attenzione andate sul sito my fx book guardate qua my fx book home forex calculators non si apre aspettiamo non so perché non si apre ecco si apre position size calculator attenzione ecco qua guardate torniamo da Vanessa Vanessa può rischiare 20 euro attenzione quindi l'account di Vanessa è in dollari o in euro? euro bene euro a quanto ha Vanessa di capitale? e lo scrive mille u mille quant'è il rischio del segnale? il rischio del segnale? 2% 2 quant'è i pips di stop loss? quanti sono i pips di stop loss? 120 120 120 qual'è il cross? euro-dollaro calcolare vedete? può rischiare 20 euro con quanto può entrare? con quanto può entrare? con quasi 0,02 qui 0,019 è chiaro? salvatore è certo con niente con niente deve entrare con mille euro con quanto pensavi di entrare? con un lotto? se tu c'è mille euro di capitale con quanto vuoi entrare? con con un lotto? ecco in queste cose qua la gente si brucia il conto perché pensa che con mille euro può entrare con un lotto sai quanti ne conosco io? quanti ne conosco che ancora piangono? ecco allora salvatore 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 capitale 400 rischio 1 e metto 1 pip di stop pip di stop 100 qual'è il cross dollaro yen scrivo dollaro yen non lo vedo eccolo eccolo scusate calcolo con quanto vuoi entrare? con mezzo micro lotto ossia non può fare l'operazione non può fare l'operazione vedete? non può entrare con 0,005 non è manco un micro lotto non può farla vediamo Gianluca Gianluca a 5.000 5.000 euro può rischiare lo 0,5 lo stop loss è 120 il segnale è su euro australia calcolo può entrare con 0,03 ci siamo? è chiaro come si fa? qui nelle slide guardate nelle slide c'è proprio questo il calcolo sul proprio capitale si fa calcolo sul proprio capitale della percentuale numero di pips di stop cross da tradare dobbiamo calcolare il size con il quale si entra al mercato per sapere con più precisione il rischio managgio andiamo sul sito www.my.facebook.com home forest calculation position size eccolo qua e inserite tutto quindi account euro account size 10.000 allora chi ha 250 euro le operazioni che non le può fare non le fa oppure entra con 0,01 col minimo ecco qua quindi d'ora in poi quando Andrea manda segnale per esempio stasera se manda segnale su australia dollaro con stop di 200 pips voi venite qui e mettete tutto quanto vostro capitale stop loss australia dollaro e entrate è chiaro? Vanessa entra con 0,01 aggiungete le preferiti perché dalla prossima volta cominceremo a fare la strategia però io mi sono subito preoccupato perché voi riceverete i segnali e la mia preoccupazione per i miei allievi è preservare il loro capitale vi voglio insegnare che il forex è difficile che ci sono gli stop loss però utilizzando questo metodo quando perdo cioè io quando metto un ordine all'uno per cento poi la sera vado a dormire tranquillo perché male che va io perdo il mio il mio il mio uno per cento Carlo dice quando c'è stato il il salto di del franco svizzero lo sai che io ho sempre vietato ai miei allievi di trattare il franco svizzero mai non l'ho mai fatto perché da sempre ho capito che era maturato dai svizzero e non l'abbiamo mai fatto è l'unica cosa che non abbiamo mai fatto quindi vi lascio con rischio menaceo da adesso voi siete in grado non fatemi mai sentire in questi sei mesi poi farete come vi pare che se avete un conto da mille euro entrate con lotto o con mini lotto non fatelo mai non fatelo mai perché se voi pensate che il 95% delle persone bruciano il conto non perché non sanno tradare ma perché sbagliano il risk reward è chiaro quindi l'ho detto la prima volta e mi arrabbio tantissimo quando non rispettate questo poi al 31 luglio quando non fate più parte dell'academy farete come vi pare finché state con l'academy non fatemi sentire che ah ho perso ho un conto da mille euro ho perso cento euro allora se hai perso cento euro vuoi dire che sei un pazzo perché io con un conto da cento euro quanto posso perdere a massimo con operazione un conto da mille euro quanto posso perdere 20 quindi se io stasera metto un segnale io ho 60 mila euro è chiaramente tutto in proporzione è tutto in proporzione è chiaro tutto è in proporzione mi dovete promettere che finché starete con me voi rispettate il rischio e il reward me lo dovete promettere giurare che non fate le stupidaggini che fanno il 95% delle persone mi raccomando è la cosa l'ho fatto come prima lezione perché l'ho messo in chiaro l'ho messo in chiaro uno stop gli stop e l'osso si prendono si prendono si prendono sempre nessuno non li prende tutti li prendono ma se uno li prende allo 0,5% è un conto cioè quando io metto un segnale didattico quelli della rubrica sanno che stiamo studiando e mettiamo al rischio il 0,5% del capitale perché vogliamo studiare per esempio una particolarità di un segnale va bene ma mai di più sempre fate sempre questo qua andate sempre su my facebook e fate sempre il calcolo che vi ho insegnato questa è la cosa più importante è la lezione più importante che c'è di tutte le lezioni che faremo questa è la più importante conservatevela come una reliquia una reliquia ok quindi vi manderò più presto la registrazione entro stasera avete una settimana per studiare risk management vi interrogerò la prossima volta e dalla prossima volta si parte con la mia strategia quindi vi ringrazio e buona serata a tutti quanti grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti